Ed ora passiamo al Bari, domani a fronte in casa l'Albino Leffe, da sempre un avversario ostico, a seguire l'ultimo allenamento per noi c'era Biagio Fanelli, sentiamo il servizio. A convivere con l'emergenza, il Bari ha fatto l'abitudine, tirato un sospiro di sollievo per Donda, intervento all'appendice scongiurato, Conte incassa il forfè di Colombo, vittima di un problema muscolare. In avanti si va verso la riconferma di Caputo e di rientro di Barreto, coppia che finora non ha mai steccato, tre partite insieme e tre vittorie. E davanti si sono sottiliate un po' le scelte perché Colombo ha accusato un po' di problemi al flessore della gamba e quindi è inevitabile che Caputo ha fatto bene, Barreto sta rientrando da un'influenza, cercheremo di fare del nostro meglio. In difesa torna a sinistra Salvatore Masiello, a centrocampo si ricompone la coppia di Evezze-Gazzi, a destra è pronto De Pascalis. Per fortuna rientra comunque De Pascalis dopo che era stato fuori, Siricardi è entrato dall'anno 21 con un problema dell'aduttore, quindi ieri non si è allenato, neanche l'altro ieri. L'Albino Leffe è una sorta di bestia nera per il Bari, in campionato cinque precedenti ed una sola vittoria di Biancorossi, peraltro conquistata nel mese di novembre, anno di Grazia 2005. Conte riconosce il valore di un avversario che in trasferta ha perso solo una volta due mesi fa sul campo del Sassuolo. Sappiamo di affrontare una squadra che è una squadra matura, una squadra che sa quello che vuole, gestisce bene le partite, buona difesa, però noi giochiamo in casa, noi stiamo in casa nostra, conto molto sull'apporto del pubblico domani, che in queste ultime partite, soprattutto quella in casa, c'è stato veramente, secondo me, di grande aiuto, perché, ripeto, avere tanto pubblico al San Nicola, una curva piena che incita sicuramente condiziona la squadra avversaria. Grazie!